Ciao amici di Tariato Games, video non previsto in programmazione ma ci sono tante novità per EA Sports FC24 alcune novità ufficiali, completamente ufficiali, alcune semi ufficiali, poi vi spiegherò meglio e poi abbiamo qualche altro frammento di gameplay, sempre video off screen e tutto quanto già vi avevo mostrato 15 secondi in uno short, c'è qualche altra traccia ma stiamo parlando sempre di video che ci dicono poco da un punto di vista della qualità grafica perché ripeto sono ripresi in maniera da schermo così, poca roba però invece le novità sono importanti, la prima è questa, questo è tutto ufficiale è la traduzione di Google automatica ma il contenuto è quello allora crossplay, in EA Sports FC24 il cosplay si sta espandendo in tutte le modalità multiplayer online i giocatori potranno fare squadra con i loro amici multipiattaforme e giocare contro squadre multipiattaforme miste in tutte le modalità in cui è disponibile il gioco incrociato questo continuerà ad essere basato sulla generazione della piattaforma dei giocatori con versioni PS5, Xbox Series X ed S e PC che sono in grado di giocare su più piattaforme PS4 e Xbox One che sono in grado di giocare su più piattaforme Switch sarà escluso da qualsiasi gioco multipiattaforma, quindi i Switch stanno da una parte siamo venuti ad annunciare che il cosplay si è esteso alle seguenti modalità in EA Sports FC24 club, stagione cooperativa, volta football, cooperativo, ultimate team e il crossplay continuerà ad essere disponibile nelle seguenti modalità ultimate team, e vedete, rivals, champions, draft online, amichevoli online, giocano con un amico amichevoli online e stagioni online quando accede a EA Sports FC24 per la prima volta il crossplay sarà abilitato per impostazione predefinita a meno che non sia diversamente proibito dalle tue impostazioni personali quindi potete mettere il cosplay, lo potete anche essere qui poi vi fa vedere tutto l'hub per la gestione dei vostri amici e quant'altro leaderboards, classifiche dei club insomma altri approfondimenti sul discorso quello che mi interessava mostrarvi era sostanzialmente questa novità del crossplay con delle aggiunte importanti, sostanziali 1, 2, 3 e 4 che cambiano rispetto a FIFA 23 e poi, e poi, Renan Galvani riporta queste informazioni che però vengono date in giro sulla rete non ho trovato la fonte ufficiale ma molti influencer danno come ufficiali queste informazioni modalità carriera manager nuova visuale dell'allenatore e lei dovrebbe essere in prima persona nuovi filmati e tattiche di allenamento nuove forme di gestione modalità giocatore e visuale in prima persona agente che aiuta la tua carriera e nuovi filmati queste dovrebbero essere sostanzialmente i principali contenuti della modalità carriera allenatore e modalità giocatore inoltre qui fanno vedere eccolo qui confermato la modalità spettatore all'interno della modalità carriera avrà una visuale in prima persona dalla visuale dell'allenatore che hai creato quindi una sorta di metaverso da cui vedere il gioco in modalità carriera in prima persona parteciperai alla cerimonia dei migliori al mondo in eSport FC quindi varie cerimonie come ho detto ci sarà una rotazione delle iconi per consegnare il premio per il migliore al mondo in eSport FC modalità carriera ad esempio Ronaldinho ha la possibilità di consegnarti il pallone d'oro le icone di eSport FC saranno le cerimonia del migliore del mondo dei premi inclusi i tecnici con licenza e altri giocatori che possono apparire nella cutscene ecco qui vediamo Guardiola lì è Lars Jensen in pallone d'oro qui vediamo quello che dovrebbe essere Pirlo mi sembra proprio lui e poi infine ci sono altri secondi di gameplay come al solito ripeto sono off screen quindi presi da cellulare in così niente di che non vorrei non fossilizziamoci sulla qualità grafica generale certo qualcosa si può vedere i modelli dei volti facciali e tutto quanto però stiamo parlando di immagini davvero poco poco rifinite capite che queste immagini qui in 4k sono un'altra storia però un'idea di fondo si può fare dopo questo ce n'è un altro questo è ancora più sbilenco è un rigore sostanzialmente più rigori scusate qui ci fa vedere la parata e e come abbiamo detto veramente sono poche sequenze queste sono le novità di oggi per gli esport FC24 fatemi sapere cosa ne pensate c'è la conferma ma oramai questo è assodato Ultimate Team mescolerà uomini e donne l'abbiamo già detto nei video precedenti questo è quanto su eSport FC notizie ufficialissime sul gameplay scusate sul crossplay notizie quasi ufficiali sostanzialmente ufficiali per quanto riguarda la modalità carriera allenatore e modalità carriera giocatore grazie per l'attenzione ragazzi aspetto le vostre opinioni e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao